Nel video di oggi vi darò 10 consigli che forse non conoscete e che sono fondamentali per sfruttare al meglio iPhone nello svolgere le attività che facciamo più volte al giorno in modo più veloce e senza stress. Ma prima di continuare sono a chiedervi il solito piccolissimo favore ovvero quello di lasciare un like al video effettuando l'iscrizione al mio canale, due gesti rapidi e gratuiti per voi ma di estrema importanza per la mia crescita qui su YouTube. Ora breve sigla perché devo darvi 10 consigli che miglioreranno la vostra relazione con iPhone. Parto subito con un consiglio comodissimo che riguarda mail e i messaggi di posta elettronica per mostrarvi come rispondere ad un messaggio andando a citare, a quotare solo una determinata frase e contestualizzare in modo più preciso la risposta che daremo. Muoviamoci quindi proprio su mail, vado a richiamare i miei messaggi nella posta arrivata e vado ad aprire l'ultimo messaggio che mi sono semplicemente autoinviato per farvi vedere come funziona. Qui leggete un testo e a un certo punto in questa mail c'è una domanda, eccola qua, mi sai già dire se ne arrivo questa settimana o la prossima o c'è già una data? Fammi sapere grazie. Se mettiamo che io voglio rispondere proprio a quella domanda, vi basterà fare una pressione prolungata proprio su quella domanda, andiamo a vedere come funziona, vedete vado a toccare con una pressione prolungata, mi ha selezionato ovviamente solo l'inizio della frase ma poi mi basta con il selettore selezionarla tutta e potrò toccare il tastino di rispondi, scegliere se rispondere a quella mail, quindi ci sarà la citazione nella risposta della mail che mi era arrivata ma potrò decidere anche di inoltrarla ad una terza persona. Io provo con rispondi e guardate, voilà, nella mail di risposta c'è solo la citazione della frase che ho proprio selezionato. In questo modo risparmierete tantissimo tempo, soprattutto se ricevete tante mail con tante domande e questo migliorerà ulteriormente la vostra vita con iPhone. Se non lo conoscete il consiglio che vi do adesso per Safari vi farà rimpiangere di non averlo saputo prima perché vi farò vedere come aprire un qualsiasi link in un nuovo pannello con un tocco a due dita. Andiamo quindi a richiamare Safari, io mi trovo nella home page di Apple dove ci sono ovviamente tutti i prodotti e tutti i servizi della mela e voglio sapere qualcosa di più del nuovo iPhone 16e e normalmente come farei andrei a toccare con un dito singolo, il pulsantino scopre di più e cosa accade? Che si apre quella pagina ma sempre nello stesso pannello tant'è che se richiamo i pannelli ce n'è sempre e solo uno. Peccato che tante volte però ci servirà aprire quel collegamento, quel link già in un secondo pannello perché magari certe informazioni che ci interessano sono nel primo e certe altre sono nel secondo e c'è un modo davvero rapidissimo che ci permette di farlo. Ritorniamo su iPhone, torno indietro alla home page di Apple e questa volta al posto che toccare lo scopri di più con un dito, lo toccherò con due dita, guardate se lo tocco, boom, si è aperto in un secondo pannello tant'è che se richiamo la finestra dei pannelli ne troverò due e questa cosa la potrò fare ogni volta che vorrò aprire un terzo pannello, un quarto pannello, un quinto pannello. Proviamo a toccare preordina con due dita e avete visto ora abbiamo tre pannelli. Sono convinto che anche per voi l'app note sia tra le più utili e comode di iOS, un'app che usiamo praticamente ogni giorno per appuntare qualsiasi cosa o qualsiasi idea. Avrete certamente notato che alla creazione di ogni nuova nota la formattazione iniziale del testo sarà sempre nella forma del titolo ovvero più grande in grassetto e questo su certi tipi di note non è sempre adeguato. Vi faccio vedere come cambiare questa impostazione con un paio di tap. Andiamo a richiamare per prima cosa le impostazioni, qui scendete fino in fondo dove troverete la voce che contiene tutte le app, entrateci e poi scendiamo ovviamente fino a trovare le note. Fateci un tap per entrarci, scendete un pochino fino a quando non vedete la voce, inizia nuove note con e vedete che è proprio selezionato titolo ovvero quel testo in grassetto e con il carattere maggiorato. Voi entrate in questa sezione e da qui potrete selezionare se farle iniziare con un'intestazione, una sottointestazione o la scelta migliore secondo me è quella del corpo perché è il classico carattere che troviamo all'interno delle note. Proviamo a ritornare alle note, crearne una nuova, proviamo a scrivere nuova nota e avete visto che il titolo è proprio nella dimensione classica ovvero piccolina e questo secondo me è davvero utilissimo perché spesso appuntiamo un codice, spesso appuntiamo magari un codice fiscale, un numero e vederlo così grande può dare molto fastidio quindi un piccolissimo consiglio che migliorerà la vostra esperienza con le note su iPhone. Immagino che tutti conosciate le foto ritratto, quelle bellissime foto che iPhone è in grado di scattare e che spiccano perché lo sfondo del soggetto o della persona appare sfocato esattamente come se usassimo una fotocamera pro. Una volta scattate però la missione delle foto ritratto non sarà finita perché potremo perfezionarla e addirittura cambiare il punto di messa a fuoco con un tap. Vi faccio vedere subito. La prima cosa che dovremmo ovviamente fare sarà quella di richiamare l'app foto. A questo punto andate a cercare la categoria delle foto ritratto che viene creata soprattutto nella nuova libreria di foto con iOS 18 e andate a scegliere una foto ritratto. Io la sceglierò a caso. Prendo questa con la cat perché rende tantissimo e vi fa vedere di come io e la cat siamo completamente a fuoco mentre lo sfondo, la profondità della fotografia è completamente sfocata. Cosa possiamo fare per migliorare questa foto? Possiamo fare due cose. Quindi la tocchiamo, entriamo nel pulsantino di modifica e vedrete quasi immediatamente la prima scelta che si chiama proprio ritratto da dove potremmo scegliere l'apertura della fotografia. Più il numero è basso come in questo caso F1.4 più vorrà dire che la profondità sarà sfocata nel gergo si chiama effetto bokeh. Noi andiamo a variare l'intensità e vedete come più mi alzo più il numero cresce più diventa fuoco lo sfondo permettendomi di cambiare così il senso alla fotografia ma nel mio caso la voglio lasciare al massimo per farvi vedere la seconda cosa che secondo me è davvero intelligentissima perché vedete che nella foto il punto di fuoco viene indicato con questo quadratino giallo ed è sul viso della cat e quindi vorrà dire che iPhone metterà fuoco i soggetti me e la cat ma se vado a toccare un altro punto della fotografia ad esempio le montagne boom avete visto è cambiato completamente il punto di fuoco e lasciando me e la cat completamente sfocati e guardando lo splendido panorama delle dolomiti. Grazie a questi due consigli potrete in un secondo momento ed è una cosa che se avete una fotocamera pro non potrete fare perché quello che sarà al fuoco resterà quello potrete così modificare e rendere più creative ogni vostra fotoritratto. Da quando è arrivato iOS 18 lo scorso settembre introducendo le nuove schermate home completamente personalizzabile con la possibilità di posizionare le app in qualsiasi punto immagino che in tanti si saranno sbizzarriti nella personalizzazione. Talvolta vi sarete perciò trovati nella situazione di voler togliere dalla schermata home più app alla volta e non voler ripetere il processo su ogni singola app c'è un modo che vi mostro subito per farlo in un sol colpo. Muovetevi innanzitutto in una pagina che volete riordinare e sapete benissimo che per rimuovere un'app dalla schermata home ci sono due modi. quello più semplice è quello di toccare questa app con una pressione prolungata andare a toccare rimuovi app e dirgli rimuovi dalla schermata home ma questa cosa se è comoda su una singola app diventa ostica diventa ripetitiva se la dobbiamo fare su più app. Quindi come si fa? Vado ad annullare l'eliminazione che avevo impostato prima e diciamo che voglio rimuovere dalla schermata home la seconda fila delle quattro app. Quindi cosa faccio? Vado a fare una pressione prolungata sulla prima mi muovo vedete che è rimasta sotto il mio dito e poi con un altro dito con la stessa mano vado a toccarne altre che si aggiungono sotto il mio dito 3 e 4. A questo punto mi muovo verso destra qui mi farà vedere una pagina nuova dove appoggiarle ma non è quello che mi interessa perché le voglio rimuovere quindi mi muovo ancora una volta a destra finché arrivo sulla libreria delle app dove vengono raccolte tutte le app rilascio vedete che si sono posizionate all'interno delle cartelline faccio un tap su fine e ritorno alla pagina qui non ci sono più ma le app sono rimaste su iphone ma per trovarle dovrò muovermi nella libreria delle app veramente geniale. Poter concedere l'accesso al wifi di casa ad amici e familiari sarà sicuramente una situazione in cui anche voi vi sarete imbattuti più e più volte magari avete giustamente impostato una password complessa lunga e difficile da dettare o magari ve la siete semplicemente dimenticata. Per fortuna grazie ad iOS 18 e alla sua nuova app password potrete farlo in un baleno attraverso un QR code. La prima cosa che dovrete fare sarà aprire l'app password fatemi riconoscere dal Face ID e vedrete che c'è una sezione che si chiama proprio wifi all'interno troverete tutte le reti wifi a cui vi siete già connessi voi identificate quella che è la rete che volete condividere con amici o familiari nel mio esempio prenderò starlight qui comparirà il nome della rete la password mascherata e ci sarà il pulsante che ci interessa ovvero mostra codice QR della rete voi toccatelo e comparirà e all'altra persona al vostro familiare al vostro amico basterà inquadrarlo con il suo smartphone e si collegherà automaticamente facendovi risparmiare tantissimo tempo e non obbligandovi a ricordare ogni singola password. Chi usa iPhone da tempo saprà che nel 2022 con l'arrivo di iOS 16 è stato rimosso il comodissimo regolatore del volume a schermo bloccato mentre ascoltiamo una canzone sarete felici di sapere che da fine gennaio 2025 con l'arrivo di iOS 18.3 è possibile rimetterlo al suo posto e vediamo come come vedete nella schermata di blocco mentre produco una canzone non c'è più il volume posso comunque utilizzare i tastini laterali ma era molto più comodo averlo qui sotto vediamo come rimpostarlo vado a sbloccare l'iPhone mi faccio ovviamente riconoscere dal Face ID accediamo alle impostazioni scendiamo un pochino fino a quando non vedete la voce accessibilità da qua scendete ancora fino a quando non vedete audio ed effetti visivi e da qui ci sarà un pulsante da attivare che si chiama proprio mostra sempre i controlli del volume voi attivatelo con questa semplice operazione il controllo del volume sarà ritornato al suo posto andiamo a bloccare il mio iPhone proviamo a toccarlo e eccolo qui è ritornato l'indicatore del volume proprio sotto al player tant'è se faccio play potrò in qualsiasi momento decidere di variarlo per questo consiglio ritorno a parlarvi di Safari perché forse non sapete che c'è un modo velocissimo per riaprire i pannelli chiusi di recente magari chiusi per sbaglio e continuare così la navigazione da dove c'eravamo interrotti andiamo quindi a richiamare Safari qui mi trovo nel mio sito se volete andatelo a visitare perché ci sono tantissimi sfondi gratuiti per il vostro iPhone ma torniamo alla cosa che volevo farvi vedere quindi qua sto navigando quando vado a richiamare la finestra con tutti i pannelli fate una pressione prolungata sul più e vedrete comparire tutti i pannelli recentemente chiusi qui vedete anche quelli che ho chiuso prima per farvi vedere l'altro consiglio se volete ritornare alla navigazione da quel pannello ad esempio da iPhone 16e che visitavamo proprio poco fa andatelo a toccare e si riaprirà senza interruzione ritornando esattamente a quello che stavate facendo i podcast sono una tipologia di contenuti sempre più apprezzata da un gran numero di persone che nel caso di iPhone usano l'app nativa installata su iOS praticamente ogni giorno quello che forse vi è sfuggito è che da qualche mese anche in Italia è possibile sia ascoltare i podcast ma leggerne contemporaneamente anche la trascrizione di testo completa vi basterà andare a richiamare il podcast che volete ascoltare o riprendere toccarlo vedrete che sarà il pulsante riprendi o riproduci in base a se stavate ascoltandolo già o meno fate un tap su riprendi vedrete che il player a fondo pagina e si attiva e a questo punto vedrete l'avanzamento che scorre e in basso noterete questo pulsantino con le virgolette voi toccatelo e boom comparirà la trascrizione di tutto il podcast che avanzerà esattamente in linea con quello che è l'audio un po' come avviene con le canzoni quando riproducete l'effetto karaoke e sarà estremamente comodo perché potrete anche decidere toccando in qualsiasi punto di passare da un punto all'altro che magari dal testo avete visto che vi può interessare di più o metterlo in pausa e leggervelo comodamente quindi piccolissima cosa dei podcast che migliorerà ulteriormente l'ascolto da iphone chi non conosce il servizio street view di google immagino in pochi ma se sei tra uno di questi è un servizio che unisce miliardi di immagini panoramiche per fornire una rappresentazione virtuale dell'ambiente tradotto potremo visitare virtualmente un luogo o percorrere una strada dal display di iphone quello che forse in tanti non sanno è che anche nell'app mappe di ios da tempo apple ha creato un sistema identico che si chiama guardati intorno vado quindi a richiamare le mappe io qui avevo già ricercato lo store italiano di apple più bello vero apple piazza liberty a milano lo vedete che lo indica lì perché avevo fatto la ricerca e fate ben caso a fondo della pagina che compare una piccola fotografia con un binocolino voi toccatela e boom avrete lo street view di apple chiamato guardati intorno da cui potrete muovervi fare dello zoom tornare indietro e camminare proprio come nel mio esempio attorno a questo splendido store guardate siamo scesi anche davanti all'ingresso vero e proprio del negozio e guardarvi in giro e questo lo potrete fare su tantissime strade visto che anche apple ha ormai virtualizzato tantissimo della nostra splendida italia quindi un'altra cosa che se non conoscevate vi eviterà di utilizzare un servizio esterno e di rimanere all'interno della mappe di apple questi erano i dieci consigli che volevo darvi nel video di oggi e che mi auguro potranno esservi d'aiuto a vivere la quotidianità di iphone con meno stress quello che mi interessa di più ora è sapere da voi cosa ne pensate come trovate i miei consigli e se il mio video vi è piaciuto quindi vi aspetto in numerosissimi e numerosissime qui sotto nei commenti anche per il video di oggi è davvero tutto noi ci vediamo presto prestissimo qui sul canale con tantissimi nuovi video un grande saluto da francesco ciao 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 ciao